primo maggio in musica anche a bitonto domenica scorsa nella galleria devanna sono risuonate le note di traetta mozart e dei più grandi compositori del settecento grazie alla riforma del melodramma il concerto organizzato dalle associazioni bitontine la macina e cenacolo dei poeti ha visto protagonista il tenore giuseppe maiorano accompagnato al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella con l'evento dedicato alla memoria dei traettiani Mario Moretti e Tommaso Urbano si è voluto anche festeggiare un ritorno alla normalità sono molto contenta che questo concerto corrisponda con la data del primo maggio per vari motivi sia perché comunque un festeggiamento importante sia perché corrisponde con il ripristino delle prime domeniche gratuite del mese che per la galleria insomma corrisponde con la prima domenica del mese gratuita e in qualche modo può rappresentare un simbolo della ripartenza quindi anche questo questa caduta dell'obbligo della mascherina e quindi si spera proprio in una ripartenza anche del turismo culturale qui a bitonto e poi in tutta la nazione quello che può essere importante per la galleria e che comunque la direzione regionale musei sta portando avanti proprio l'inserimento della galleria di tutti i siti della Puglia e quindi della direzione regionale musei Puglia in una rete quindi all'interno del sistema museale nazionale creare proprio una rete con tutti i siti che fanno parte del ministero e quindi in qualche modo dare una spinta all'inserimento proprio della galleria in un contesto territoriale che abbia una spinta maggiore proprio a livello di conoscenza e di promozione. Nella giornata dedicata ai lavoratori anche un pensiero a quanti operano nel mondo dello spettacolo alla crisi vissuta dal settore e ai loro diritti. Il primo maggio ed è una giornata cosiddetta dedicata ai lavoratori e il mio pensiero non può che andare a tutti gli operatori del settore cultura con alcune domande che mi pongo da sempre sono degnamente rappresentati sono degnamente tutelati in Italia in questa nostra nazione che da sempre ha fatto della difesa del lavoro almeno a parole il suo primo baluardo. A tutti loro va il mio augurio che possano vivere un futuro roseo e degno della tutela dei loro valori.